Frate benvenuti in questo nuovo shop o passo di Marvel's Snap Prima variante di oggi questo Juggernaut Venomizzato A me non piace perchè non si capisce niente C'è una massa nera Non mi piace Passo Qui abbiamo una bellissima variante di The Hood Doppia pistola Quell'occhione di ro Bellissimo shop Queenjet di Ghost Rider Una delle migliori varianti di Queenjet Ovviamente shop Wolverine di The Nip Vi dico la verità Ultimamente non sono fan di The Nip Ma questo Wolverine non è male Shop Questa penso sia la miglior variante di Odino Bellissima Bellissima Questa non è né shop e né passo Questa è Godo Qui abbiamo una Ghost Spider versione nerd Non lo so Eccitante anche con sti occhietti azzurri Questa non è shop Questa è bombo Ah Il capoccia No Mamma mia Che è sto capocchione enorme No no passo E Knull ha solo varianti belle Ragazzi Sta variante di Knull è meravigliosa Meravigliosa Shop Se lo short ti è piaciuto Lascia il like e iscriviti al canale